Questa basilica fu la prima ad essere costruita dopo l'editto dell'imperatore Costantino che nel 313 concesse ai cristiani la libertà di praticare la loro religione. Lo stesso imperatore donò al Papa Melchiade l'antico possedimento della famiglia dei Latarani e vi fece edificare la basilica, il battistero e il patriarchio, cioè la residenza del Vescovo di Roma, dove i papi abitarono fino al periodo avignonese. Questa ricerenza, interessato prima da prima la sola città di Roma, poi a partire dal 1565 si estese a tutte le chiese di rito romano. In tal modo, onorando l'edificio sacro, si intende esprimere amore e venerazione per la Chiesa romana che, come afferma Sant'Ignazio di Antiochia, presiede alla carità dell'intera comunione cattolica.